Buonasera amici, buonasera a tutti, se per la prima volta siete arrivati su questo canale vi dico grazie e vi auguro una buona visione. Io sono Laura, sono la tatadì fino ad oggi. Perché fino ad oggi? Perché esattamente un anno fa iniziai questo canale con alcuni intenti, tra cui quelli di riportare giornalmente il percorso che condividevo con voi del mio cammino nella situazione della fibromialgia. Questo percorso ha avuto dei risvolti importanti e fortunatamente per me dei miglioramenti importanti. Questo mi ha dato sì la volontà e la forza di pensare, diciamo così, a dei nuovi progetti e a riprendere fiducia in quella che è la prospettiva di vita e di continuare a poter vivere serenamente anche con questa patologia. Ma allo stesso tempo mi ha dato l'opportunità di capire che poco potevo fare con questo canale, cercare di trasmettere un senso di positività che non deve essere quello di una positività finta, ma quella di una persona che realmente ha una condizione di fibromialgia e vive con una condizione di fibromialgia in casa perché anche il mio figlio più piccolo è affetto da questa sindrome. Le difficoltà sono tantissime, ma proprio perché le difficoltà sono tante e non possiamo permetterci di, come si può dire, perdere i colpi, di lasciare andare qualcosa, la lotta verso lo star meglio è diventata la priorità di ogni piccolo passaggio, ogni piccola azione giornaliera. Io ho trovato un piccolo equilibrio che non è solamente dettato dai farmaci, ma da un'attenzione costante all'alimentazione, alle integratori, al cammino e alla depurazione che è fondamentale sotto tutti i punti di vista, dal pediluvio all'enteroclisma, a tisane depurative, al riposo, al silenzio, alle musiche rilassanti e, diciamo anche la verità, all'isolamento da persone che mi creavano fastidio. Fastidio nel senso di appesantimento, noiosi, lamentosi, sempre con uno spirito pessimistico. Io sono esattamente l'opposto, perché conosco le difficoltà di questa vita e non voglio lamentarmi, voglio semplicemente dare dimostrazione che nella vita, pur dura che sia, si può trovare un motivo per cui continuare a credere di migliorare e continuare a sperare di vivere una vita serena. Questo ha fatto sì che a un anno di distanza dal primo video, praticamente, la Tata Di cambierà nome, cambierà nome perché credo di aver, di dover ringraziare la mia conoscenza che ho in ambito alimentare determinato dagli studi che ho seguito da sempre, da giovanissima. Ricordo le parole molto importanti del reumatologo che mi disse signora, se lei non seguiva questo tipo di alimentazione sarebbe arrivata qui da me molto tempo fa significa che mangiare bene e scegliere con consapevolezza gli alimenti, saperli cuocere, saperli mangiare anche, mi ha dato la forza, l'energia di contrastare questa sintomatologia per molto più tempo rispetto a quello che sarebbe potuto essere. Io ci credo fortemente in questa cosa, ho imparato a riconoscere ciò che non mi fa bene da ciò che mi fa male, al di là di quello che pensano i medici, al di là di quello che pensano i dietisti, tant'è che un anno fa quando mi resi conto che la terapia farmacologica che stavo prendendo mi stava rovinando l'esistenza, due anni fa scusate, nessuno mi credeva e ho avuto la certezza poi con le analisi che non era una questione di mangiare di più io sono aumentata 27 chili in circa un anno e questo a causa dei farmaci, non a causa del tipo di alimentazione tant'è che più volte ho detto sono stata da diversi nutrizionisti senza nessun tipo di risultato perché nonostante le terapie, scusatemi, nonostante i piani alimentari io non perdevo peso perché non era determinato da quel tipo di problema non dal fatto che io mangiassi più o meno questo mi ha fatto convincere del fatto che i miei studi mi hanno comunque sempre aiutato nella mia vita e voglio oggi onorare questi studi facendo sì che diventino il mio perseguimento di vita al di là dell'insegnamento cosa che faccio per lavoro desidero trasferire le conoscenze a quelle persone che hanno il piacere di volersi mettere in gioco e di comprendere che l'alimentazione non è semplicemente un atto necessario per vivere ma ha delle peculiarità importantissime anche sotto il profilo psicologico ricominciare a impastare, a mettere le mani in pasta come si dice cucinare per il piacere di farlo, per il piacere di fare piacere a qualcuno per farlo insieme a qualcun altro come momento di condivisione questo sarà il progetto del prossimo anno quindi vedrò la mia persona impegnata in Amica Chef che è proprio una mano in cucina cioè io sarò la vostra consulente, chiamiamolo così, di famiglia senza nessuna pretesa da parte vostra se avete consigli o se avete domande da fare in merito all'alimentazione non mi voglio sostituire a nessun tipo di medico queste saranno solamente conoscenze di tecniche di alimentazione sana, consapevole come si può dire scelta per mantenere le importanti funzioni organiche che abbiamo nel nostro corpo e che la natura ci ha dato e dobbiamo solamente imparare a riutilizzare quindi per chi è dei gruppi della fibromialgia e vedesse questo nome cambiare del mio programma è semplicemente perché ho, come in tutti i percorsi di vita fatto una scelta che verrà, come si può dire, rinnovata con appunto la versione, come si può dire, dal bruco alla farfalla cioè la prima versione di la tata di cucina è diventata la tata di la tata di diventerà Amica Chef e mi auguro che questo, che è la mia parte professionale ma anche la mia essenza, possa essere di gradimento a qualcuno e con questo video vi saluto vi auguro un buon fine anno e un sicuramente miglior inizio tanta serenità, tanta consapevolezza e tanta forza per andare avanti per lottare per il bene della vostra salute per il bene della vostra famiglia perché se voi state bene chi vi sta attorno sta ancora meglio mi raccomando, continuate a seguirmi se avete domande fatele tranquillamente se vi piace il canale iscrivetevi e mantenete il contatto con la campanella e non perdetevi le prossime puntate di cucina di Amica Chef ciao a tutti, buon fine anno e miglior 2020 vi lascio ora al mio ultimo video per quest'anno è un video meal prep per la preparazione in anticipo di alcuni pasti che poi saranno vostra cura collaborare e rielaborare durante i giorni successivi questa tecnica mi ha dato la possibilità di elaborare diversi piatti di garantire sempre un menù equilibrato e di avere a disposizione verdure cotte e crude a ogni pasto secondo me è un'ottima organizzazione dei pasti durante la settimana permette anche di fare una buona spesa e di non avere sprechi quindi al video prossimo e ancora un bacione a tutti per quanto io mi impegni a tenere la cucina ordinata non riesco mai ad avere un piano di lavoro libero da qualche cosa è sempre 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 pienissimo di tutto e pure cerco, cerco in ogni momento, in ogni giornata di liberare il più possibile ma cosa posso fare? la mia vita è qua e quindi ci sono i robottini, la tisaniera sempre piena d'acqua perché ogni tanto mi faccio un po' di acqua tiepida che va anche solo con il limone poi c'è il mini fornetto che incredibilmente è anche pulito in questi giorni lo sto usando parecchio per non stare ad accendere il forno ma lo sto usando quello per le verdure è sempre comodo averlo a disposizione qua c'è la mia serie di piatti colorati per fare le presentazioni lo spiralizer lì c'è qualche sale aromatizzato un po' di frutta microonde che è più le volte che è spento che quello che funziona perché in realtà non mi piace e poi niente, tutta la linea di lavoro qua è sempre piena 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 e devo dire che grazie alla signora lavastoviglie che ha già fatto il suo lavoro per oggi perché queste me le sono lavate a mano però lei ha dato già la sua parte di aiuto sicuramente qua c'è appunto la spugnetta, il sapone al limone questa qui è una spugnetta di lofa che utilizzo per lavare i piatti qua c'è un contenitore che era quello del miele dove io utilizzo del sapone dei piatti di un bidoncino da 5 litri così c'è un minor spreco di plastica e poi di volta in volta vado a ricaricarlo ebbene è ora di preparare il tavolo qua abbiamo il mio lievito madre che si sta rinfrescando qua invece questo qui se lo ricordate l'avevo già spiegato una volta è la madre del kombucha che è nascosto là dietro vedete c'è la bottiglia scura con scritto kombucha perché questa è in seconda fermentazione ed è quasi pronto da bere ok questo era il giro della mia cucina che per quanto cerco di riordinare come ho detto prima è sempre sempre zeppa di tutto e vabbè l'importante è aver voglia di spadellare ciao ebbene eccoci qua siamo finalmente nella mia cucina allora questa sera ho deciso di preparare un po' di verdura sto partendo dalla pulizia del topinambur che è un ottimo ortaggio un tubero che ha delle proprietà nutrizionali importante tra cui l'inolina che è una sostanza molto utile soprattutto per i diabetici è ricca di fibre, di minerali ha un gusto leggermente simile al carciofo ma ha anche il vantaggio di essere leggermente lassativo quindi positivo per chi ha problemi di stipsi ma mi raccomando non esagerate per chi invece ha problemi contrari allora pulito bene tolto tutta la buccia lo vado a tagliare poi a pezzettini e andrò a posizionarlo su una teglia da forno dove poi una volta terminata la pulizia aggiungerò gli altri ortaggi e farò cuocere tutto a forno statico per circa mezz'ora la problematica di questo tubero è che è molto zigrinato e quindi ha delle protuberanze un po' difficili da pulire altro tubero in questo caso è la patata dolce è la versione grigia non è la versione rossa quella americana anche qua un po' di difficoltà per pelarla quindi andrò a pelare questa prima che è un pochino più grossa e sarà poi tagliata a pezzi da mettere sempre in forno mentre le altre più piccoline andrò a cuocerle a vapore e rimarranno quindi con la buccia pronte per essere mangiate anche in altri momenti se siete più comodi potete utilizzare un coltellino o un pela patate però ecco vedete in alcuni momenti si fa un po' fatica devo dire la verità che qua mi stavo quasi arrabbiando con questa patata perché non riuscivo proprio a pelarla bene con l'aiuto di un coltello la tagliamo a pezzi grossi è un pochino dura si vede proprio anche dalla tecnica forte che utilizzo per il taglio ha un sapore molto buono molto dolciastro questa patata e quindi va bene a combinarsi con quella invece del topinambur che ho fatto vedere prima ecco qua che posiziono in teglia tagliati a pezzi regolari in modo che la cottura sia il più equilibrata per tutti gli ortaggi andrò ad aggiungere anche delle carote tagliate a rondelle oppure come farò vedere adesso in oblungo potete pelarle o anche non pelarle se sono di origine biologica ne andrò a pelare tre all'incirca anche semplicemente tagliarle così in obliquo danno un'immagine diversa dalle solite rotonde il tagliere che sto utilizzando sotto è in vetro non è particolarmente comodo suggerisco il tagliere in teflon normale perché qua scivolava un po' molto carino esteticamente mi piace tantissimo l'immagine però non particolarmente comodo ecco che arriviamo a un altro ortaggio invernale anche questo non semplice da lavorare ecco perché ne faccio in quantità abbondante una volta in modo da non dovermi arrabbiare di volte diverse questo è il sedano rapa anche in questo caso vado a pelare la superficie anche qua non molto semplice in realtà sempre potete utilizzare un pela patate oppure uno spelucchino un coltellino come siete più comodi sedano rapa ha un sapore anche questo abbastanza delicato è uno degli ingredienti dell'insalata capricciosa che viene fatta appunto tagliando il sedano rapa a julienne e poi unito alle carote e alla maionese uno degli antipasti tipici delle festività oppure è più insolito ma si può utilizzare per preparare degli sformati di verdura o anche in questo caso sempre tagliato a pezzetti e messo al forno la consistenza è piuttosto dura il mio sguardo dice tutto senza gli occhiali non vedo quindi mi sono dimenticata di metterli devo prestare attenzione dove metto le mani benissimo siamo arrivati alla fine tutto in teglia possibile utilizzare carta forno io in questo caso ho sistemato tutto direttamente sulla teglia ecco rimanevano gli ultimi peperoni veramente 4-5 peperoni restanti in frigo e quindi ho pensato anche questi di dar fondo e a volte funziona in questo modo mi piace molto fare un giorno ogni tanto lo svuoto a frigo tutti gli ortaggi vengono poi ecco ops ha cascato il telefono vengono sistemati in forno quindi la cottura è una per tutto pochissimi semi all'interno quindi velocissimi da pulire e per quest'anno direi che i peperoni non saranno più presenti nei menu che vedrete in futuro fino alla prossima estate ecco qua un altro amico dell'inverno il finocchio mi piace molto mangiato crudo ma non disdegno anche mangiato cotto sempre attenzione alle mani io faccio le cose di fretta tagliato in quarti quindi in realtà in ottavi spicchi piuttosto grossi anche questi in forno ora presenteremo bene ecco qua la teglia con tutti i nostri ortaggi vado semplicemente a salare leggermente e a mettere un velo d'olio questo è il tavolo con tutta la linea di lavoro pronta per essere lavorata qui ci sono degli fagiolini che sono stati scolati precedentemente cotti a vapore o bolliti nel mentre mi faccio l'acqua e limone come sono solita e qua un altro momento di tribolamento per tritare o meglio per grattugiare un pezzetto che avevo ancora lasciato da parte di sedano rapa mi sono abbastanza arrabbiata con questo aggeggio tant'è che a un certo punto ho preferito utilizzare il robot da cucina elettrico prima di questo vedete dei pezzettini avevo tagliato le carote adesso è ora la lama del finocchio cambiando la lama del finocchio invece faccio delle fettine che andrò poi a utilizzare per un'insalata semplice utilizzate quando arriva la parte più sottile la protezione per le mani perché basta un semplice movimento per farvi veramente male e non è il caso e se per caso ve ne avanza un pezzetto e non sapete dove metterlo sicuramente mangiarlo non vi fa male ecco qua che a un certo punto l'altro mezzo sedano rapa ho avuto la brillante idea di utilizzare il robottino che in pochissimi istanti ha reso tutto molto più semplice più ordinato e anche più pulito i pezzi che rimangono in superficie si possono poi rimettere all'interno per cercare di grattugiarne il più possibile ma vedremo poi che con gli scarti restanti si può comunque preparare qualcos'altro l'ultima anche qua zucchina che mi sono trovata in giro in frigorifero qui ci sono i pezzetti di sedano rapa e finocchi che erano rimasti pezzetto anche del gambetto di finocchio questi ortaggi potete tenerli da parte metterli poi in congelatore e utilizzarli per fare un brodo vegetale quando li avete in abbondanza oppure semplicemente come sto facendo io cuocerli e ricavare quindi un piccolo minestrone di verdura che potete utilizzare come preferite vedrete poi che in questo caso io lo metterò a cuocere tutto insieme senza aggiungere nessun cereale e una volta cotto l'ho poi versato praticamente in due vasetti e portato a sterilizzare chiuso e sigillato in maniera sotto vuoto e pronto da essere portato anche in giro magari nei prossimi giorni se avremo l'occasione di andare col camper e avere già proprio un minestrone pronto semplicemente da scaldare a bagnomaria o anche direttamente in padella ecco qua la zucchina la modalità di taglio è a vostra preferenza questa è quella che preferisco per renderla il più possibile simile a un cubetto si definisce squadratura nulla vieta di tagliare normalmente mi raccomando non pelate la zucchina perché la parte verde è una parte comunque ricca e nutriente ed è un'assurdità pelarla tutti gli ortaggi sono oramai pronti questo è un pezzetto di vietola costa un ultimo pezzetto rimasto nel giardino perché oramai le lumache hanno mangiato praticamente tutto quello che era rimasto soprattutto cavolo riccio e cavolo nero il lavoro sembra tanto ma il risultato vedrete poi che è veramente ottimale per dare la possibilità nei giorni successivi di elaborare diverse cose ecco qua in forno 30 minuti qui ho preparato invece un soffritto di funghi champignon alla quale poi ho aggiunto un po' di farina di miglio e un pezzettino di burro questa volta per renderlo praticamente più cremoso e una volta frullato realizzare quindi una crema di funghi che verrà poi utilizzata in diverse preparazioni prima di aggiungere burro e farina ho anche tolto una parte che poi verrà utilizzata invece come contorno insieme a dei fagiolini adesso a questo punto aggiungerò del liquido può essere del brodo può essere dell'acqua in questo caso è l'acqua di cottura dei fagiolini che avevo fatto in precedenza lascio cuocere ancora affinché la farina in questo caso integrale si sciolga bene ecco qua il risultato con qualche chicco di mais ecco qua il lavoro terminato in un'ora e mezza ho preparato un po' di linea di verdure per i prossimi giorni ci sono fagiolini lessati e qui invece ne ho messo un'altra porzione che erano a vapore sedano rapa finocchio carote e sedano rapa questo è il misto al forno ne ho tenuta fuori una porzione per questa sera insieme anche ai fagiolini e anche questa insalata già pronta per questa sera le tre verdure grattugiate qui ho messo invece insieme un po' di finocchi scusate di fagiolini e di funghi i carciofi i carciofi conditi crudi con olio limone sale pepe le patate americane in realtà sono quelle grigie all'interno cotte la crema ai funghi che sarà uno dei pasti di questa sera in forno in forno ho messo a cuocere a 170 180 gradi del cappuccio dorato quindi crauti e della mela lascio cuocere almeno un 25 minuti conditi con sale e olio da questa parte con i rimasugli delle verdure tagliate ho preparato un minestrone per i prossimi giorni e qua con gli scarti dei carciofi praticamente ho realizzato una tisana ai carciofi che è un ottimo depurativo e quindi verrà filtrato e bevuto chiaramente senza null'altro quindi senza sale senza zucchero senza niente solamente le foglie bollite bene questi chiaramente sono solo alcuni degli ingredienti che verranno poi utilizzati nei pasti dei prossimi giorni ma avendoli pronti in questo modo ho la garanzia di non scordarmi di mangiarli e di avere una varietà sia cotta che cruda a disposizione a questo punto posso aggiungere solamente un cereale a preferenza della giornata e una fonte proteica da semplici legumi quindi ceci o lenticchie o fagioli qualcosa magari anche già all'occorrenza se in caso di necessità di fretta già cotti oppure metterli in ammollo e cuocerli il giorno successivo bene con questo video vi saluto e al prossimo anno ciao ecco quindi una carrellata dei piatti preparati nei giorni successivi ho utilizzato il ripieno di carciofi per fare dei salatini con anche delle pizzette una lasagna con crema di funghi e prosciutto e utilizzando dell'altra pasta sfoglia ho realizzato in vasetto una lasagna in questo caso vegetale con pesto e pesto di canapa formaggio e fagiolini poi va messo tutto in forno dove ho messo anche una lasagna senza besciamella e un uovo cotto in tegamino bollito